Prendete la prima a ovest di Maggesburg, il treno arriva sul binario morto di Belport, tenete pronta la squadra d'emergenza, fate evacuare lo stabilimento, fateli allontanare il più possibile, mi raccomando, avete dieci minuti, soltanto dieci, e lasciami in pace, stronzo! Signor Barson, ci sono due detenuti a vasi su quel treno. Me ne frego dei detenuti, non è problema mio, ho un treno senza macchinista con tre fottute persone a bordo, e non ho più neanche un binario libero da sfruttare, hai capito? Sì, fregge. Dollevami le mani di dosso, o ti faccio buttare fuori da qui a calcino il sedere, ma che cazzo vuoi? Tieni d'occhio il treno, devo andare a pisciare. D'accordo. Così impari che non puoi trattarmi come un pezzo di merda. Sono abituato ad avere a che fare con gente che non immagini nemmeno. Asciugati quella piscia dalla faccia, adesso sarai un po' più gentile. Se non riprendo quei detenuti, la prigione salterà in aria. Sai cosa significa una rivolta in un carcere di massima sicurezza? Uno come te non può neanche immaginarlo. Dov'è quel treno? Binario 1. Ti faccio ingoiare i denti se fai lo stronzo con me. Voglio sapere dove si trova, è chiaro? Devo raggiungere quel treno con un elicottero. Devo raggiungere quel treno con un elicottero. Devo raggiungere quel treno con un elicottero. Venga di là. Venga di là. Venga di là. Venga di là. Grazie a tutti. Grazie a tutti.